Vi giuro ragazzi, basta, non se ne può davvero più, i cheater hanno ufficialmente rotto il cazzo. Ebbene sì ragazzi, Fortnite, il gioco che io amo alla follia e che ho dedicato sei anni tra contenuti, gameplay, tornei e quant'altro, sta diventando purtroppo sempre peggio. E questa è tutta colpa di cheater che stanno continuando a spopolare questo fantastico gioco e ovviamente anche colpa di Epic Games che purtroppo continua a non fare assolutamente un bel niente. Oggi ragazzi purtroppo sarà un video diverso da solito perché sono molto arrabbiata ma soprattutto molto demoralizzata nel vedere come sta diventando questo gioco che io veramente ho amato per tutti questi anni ma come sono sicura che avete amato anche voi. E purtroppo viene rovinato costantemente tutti i giorni dei cheater che continuano a citare in maniera completamente spropositata che sia in ranked, che sia in pubblica, che sia in zero build ma soprattutto anche nei tornei. E purtroppo ogni volta non gli accade mai un bel niente perché anche se vengono sospesi e bannati comunque riescono a trovare degli scamotage per creare dei nuovi account e tornare a citare e rovinare le esperienze di gioco a quelle persone che come me ma anche come voi puntano a divertirsi giocando a Fortnite o che magari vogliono comunque cercare di competere, diventare qualcuno e quant'altro. E purtroppo la situazione sta davvero sfuggendo di mano. Oggi ragazzi andate a vedere un gameplay di quando appunto stavo giocando in trio rank ed in Unreal con due miei amici e appunto a un certo punto durante la partita abbiamo deciso di fare una challenge per YouTube per rendere il tutto molto più interessante. E quindi abbiamo avuto l'idea di fare appunto la challenge di giocare solo ed esclusivamente con le catene di Ade che peraltro sono fortissime. La challenge stava andando veramente alla grande e ci stavamo divertendo veramente un casino disfuggendo la lobby con le catene. Fino a quando purtroppo non siamo imbattuti in una trio di cheater che peraltro stavano giocando tutti quanti in uno versus trio quindi tutti quanti splittati per cercare di fare più kill possibili all'interno della lobby. Questa trio di cheater peraltro aveva un complessivo di 50 kill e la persona che ci ha ucciso in solo versus trio ne aveva 16. Quindi ragazzi una roba veramente assurda perché faceva soltanto headshot dei prefire veramente impressionanti e riusciva anche a trackerarti alla perfezione in ogni singolo momento. Ovviamente ho deciso di spettarlo fino alla fine per poi chiaramente segnalarlo perché ovviamente hanno vinto la partita abbiamo verificato tramite lo spectatic che stava citando in una maniera veramente spropositata e alla fine del video è successo finalmente quello che doveva succedere. Quindi ragazzi mi raccomando prima di cominciare con questo video vi invito a lasciare da subito un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete avuto esperienze particolari dove magari avete incontrato dei cheater e vi hanno rovinato appunto il vostro gameplay o la vostra partita. E inoltre ragazzi vi ricordo che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 e se volete supportarmi nello shop di Fortnite utilizzando il codice creatore Croatomist potete taggarmi in una storia su Instagram così che vi verrà ripostata e riceverete anche un ringraziamento in privato. Detto ciò ragazzi ora però non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al gameplay vi auguro una buona visione. Stiamo straccando un rigatto. No raga ho quattro team. Siamo morti mi stanno... Deppiamo? Siamo... No sì sì debbiamo di imparare. Passare un ringolo. Ok. Oddio oddio raga mi sparano. Morto 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 morto. Aspetta c'è il DM e ripendo surge eh un secondo. Oh ragazzi. Ma quanto mi piacerebbe fare una tipo una ranked tipo con tre catene andare solo cioè andare tipo nei box e andare solo di catene. Sarebbe divertentissimo ragazzi. Allora se vuoi io una ce l'ho la posso prendere adesso. Ma perché non facciamo le challenge per YouTube? Frate vogliamo farlo? Io ce le sono altre catene? Io ho la catena. Perché non facciamo la challenge? Ce l'hai tu capi la catena? No. È qua. Ce ne sono due per terra. Cerchiamo... Io ho le armi normali però se facciamo tipo solo di catena... Cioè vediamo un box c'è l'obiettivo che ci avviciniamo e facciamo tipo tutte e tre con la catena. Vi giuro che li bombiamo tutti raga. Eccoli 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 eccoli. E perché sta pillando? Ah perché vedete il medaglione vostro mi sa. Ah il mio sì. Uno è sopra uno è sopra. Dov'è? Dov'è? Ah l'hanno craccato. C'è un team. Uno è qui. Ma voi siete snickati. Vai vai vai. Vai. Vai adesso. Morto. 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 Buonasera. Tenente. Tutto bene? Mi sparano. Eltrinks. Bene grabbo. No aspetta. Devo fare pizzi. Devo fare pizzi. Ok vai a te filo. Catena. Vai a catena. Vai a catena. Vai a catena. Motto uno. Motto uno. Non è lutta. Due catena te lo giuro. Qua c'è pizzi per voi. Vai a catena. Inhug, 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 inhug. 60. 1 speed. 165 di catena. Morto, morto, morto. Morto, morto, morto. Facciamo double. Facciamo double. No ragazzi. Vi gioco da BSM sta roba. Ok, 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 ok. 1 speed. No. Vi ho fatto 90 di catena. Stai su. Stai su. Stai su. Stai su. Stai su. Stai su. Morto, morto. L'ultimo, l'ultimo. Non fate finire. No, no, arrivo io. Ok, qua c'è un altro finisso voi qua. Guarda me. Lo sto seguendo così almeno a bai. Sono qua da me? Solo, solo, sto restando, sto restando, sto restando. Sto villando. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Quanto continui hai, Greco? Quanto continui hai? È uno, è uno. Uno, uno, uno. Resiste, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Siamo quasi, ti giuro siamo quasi. Marti 5 secondi c'è. Grabato, grabato. No, ragazzi, ma è no sense questa cosa, ma scherzi? Grabato. Morto, vado, 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 vado. È morto, è morto. No, ragazzi, non ha senso. È qua, dietro. È qua, qua, qua. Pulpis? Ottanta. Vento, vado, 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 vado. Morto, morto. No, ragazzi, questa cosa è da tossici vado. Guardi, guardi, fattelo. Fanno il tercetto. Andiamo, andiamo, andiamo. Sono, forse, due. Grabato. Arrivo. Morto uno. Nice. Mi build, mi build, mi build, mi build. Gravo, cool. Aspetta. Cicciamo, guardo. Tincato, tincato, 50. 50, tincato. Non ci credo. No, ragazzi. Vai, Capi. È la tua fine, bro. Oh, no. Arrivo, no? Appena ti cura, andiamo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Capi, capi, questo qua. Stai lì, su. No, 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 aspetta, Capi, occhio, occhio. Ragazzi, ragazzi, mi ha fatto mazzo. Guarda, non mi butta. È solo, eh? Ma è. Ah, sta accettando, sta accettando. Sta accettando, 100%. 100%, sta accettando, 100%. 101. No. Ammazzo un cheater, te lo giuro, ammazzo un cheater. Mi ha fatto malissimo. Marti, ho mini mazzo. C, 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 c. Posso ammazzarlo? Mamma mia, questo qua sta accettando al 90 milioni per cento. Tra l'altro è restabile mazza che sta giù. Sì, sì. No, raga, ma ci hanno rovinato il game. 15 kg, questo. Ragazzi, che palle. Raga, è diamante. È diamante, dai. Non ci schifo, sì. Ha l'ha creato ora, la counter. No, ragazzi, ci ha rovinato il game. 43 kg hanno questi. Ah, quindi tutta la trio? Sì, sì, sì. No. Ma scrive tipo... Io pensavo che eravamo noi cringi della lobby con le catene, ma abbiamo beccato quelli che sono più cringi di noi stanno E, 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 altrimenti la cosa più cringi delle catene è solo questo, questo Ah, raga Guarda come fu il tracca Io l'ho capito perché mi sono passati due edge No, 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 l'ho vista anch'io, l'ho vista anch'io, l'ho vista anch'io, guarda Lizzy Ecco, vedi, questa cosa, tipo lui adesso, in questo momento, non è un soft cheating, questo è un hard cheating Che schifo, raga No, no, vabbè Cioè, questo è acceso in una maniera, cioè, gli alberi di Natale in confronto sono nulla, raga Così, ragazzi, noi eravamo in modalità challenge per divertirci Mamma, guarda, cosa scagare In modalità challenge per divertirci devono arrivare quelli che cittano, questo qua con l'account nuovo Ed è tutta la trio che cittano, raga, perché hanno 47 kill di squadra Lui ne ha tipo 20 solo lui, incredibile, ragazzi, cioè Era una passata bellissima Effettivamente, raga, cosa poteva capitare tra di noi, cioè, cosa poteva capitare questo game per perderlo Questa era l'unica cosa Ragazzoni, mi ritrovo a registrare quest'outro un giorno dopo da quando abbiamo incontrato questi cheater E dopo 24 ore, quindi veramente tantissimo tempo Finalmente questo giocatore è stato sospeso per via delle nostre segnalazioni E probabilmente anche per tutte le segnalazioni che ha ricevuto uccidendo altri giocatori in ranked Chiaramente, ragazzi, questo player è rimasto per più di 24 ore a distruggere intere lobby E a rovinare le esperienze di gioco di tantissime persone E chissà quanti altri account si è creato o continuerà a creare E continueranno a fare giocatori simili Anzi, che non reputerei nemmeno dei giocatori Li reputerei dei pezzi di merda Detto ciò però, fortunatamente la segnalazione ha funzionato E il giocatore è stato ufficialmente bannato Quindi ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto Anche oggi giustizia è stata fatta su un giocatore Su chissà quanti ce ne sono in realtà su Fortnite Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollice all'insù Iscrivetevi al canale E noi ci ribecchiamo in un prossimo video Bella a tutti ragazzi